Cos'è la Festa del Dono? La Festa del Dono è un evento, una manifestazione che a Parma si svolge ormai da 34 anni, questa qui la 34esima edizione, e unisce tutte le associazioni del dono, quindi dai donatori di sangue ai donatori di midolosse, donatori di organi e di cordone umbilicale, e serve a valorizzare sicuramente i donatori prima di tutto perché con il loro gesto hanno contribuito a salvare sicuramente tante persone. E poi anche per far conoscere la solidarietà che in questo momento Parma ha assolutamente bisogno e che comunque Parma risponde sicuramente molto bene, però ha bisogno di nuovi ingressi, di nuove entrate di donatori. Questa manifestazione serve appunto per far conoscere questi volti che tendenzialmente rimangono sempre nell'anonimato, cosa che invece è sbagliato perché potrebbe servire proprio per essere da stimolo anche a nuove generazioni, agli italiani di oggi, ai nuovi italiani che sono entrati a far parte della nostra comunità e far capire quanto è importante invece donare, donare qualsiasi cosa. E com'è nata questa iniziativa qui a Parma? Allora diciamo che 34 anni fa, forse anche 35, causa un'improvviso urgenza di sangue per una persona durante una partita di calcio al Tardini e lo speaker ricordava che c'era appunto bisogno urgente di questo sangue. Il nostro concittadino fortunatamente poi si è salvato grazie alla generosità di tanti donatori che sono accorsi in quel momento. Questa persona, influente in quel momento in Consiglio Comunale, ha avuto l'idea di istituire questo premio che da allora appunto è diventata la festa del dono e da 34 anni annualmente promuoviamo anche noi come associazione questa giornata che è importante anche per tutti.